Buongiorno, ben ritrovati e i miei amici che mi guarderanno su YouTube con l'amico qua Savino Un saluto agli ottavianesi! Un saluto ai piagginesi! Ecco, siamo qua, che stiamo andando a Vicenza Centro, dal nostro comandante provinciale perché ci deve dare degli aggiornamenti su quello che sarà il giornale di domani Domani mattina alle 5 e mezza partiremo da Vicenza a direzione Fiuggi perché dobbiamo presiedere un convegno un convegno della pubblica amministrazione, ma il nostro scopo è quello di presentarci alle votazioni comunali Savino, cosa prevedi tu con due consiglieri come noi al comune di Vicenza? Io credo che il dottor Mucciolo Luciano sarà un ottimo consigliere comunale e forse si parla delle mie idee Un altro consigliere, Savino Alaia Un saluto a tutti! Un saluto a tutti!